Cari sorelle, cari fratelli, ce lo ricorderemo bene questo anno del Menga, eh? Abbiamo avuto il Covid, abbiamo avuto Becciu... Eccomi! Vattene! Ok! Ecco! In più sono circondato, avete visto, da una caterva dei cardinali. Se fosse per loro mi manderebbero a fare il commissario in Calabria, armato di Cerbottana. Ora, fratelli, sapete quanto ci tengo io alla messa, a Gesù Cristo, al Natale? Come dire, a tutto sto circo medievale, no? È un po' il mio mestiere, c'è campo di queste cose. Perché vi dico questo? Perché ora si parla tanto della santa messa di Natale, che chi vuol far nascere il bambino alle 22, chi dice no a un insulto è sempre nata a messa notte. Ricordo a tutti che è una convenzione, come dire, è influenzata anche dal fuso orario, no? Perché a Betlemme è messa notte, ma a Sidney sono le 10 del mattino. Cioè farlo nascere a messa notte in tutto il mondo. Non è facile, è impossibile. Ci vorrebbero 24 Gesù bambini, uno a fuso. Se volete il parere di un tecnico, la messa anche fatta alle 18 è assembramento. Te lo dico, no, no, è assembramento. E non mandiamo a scuola i bambini e le facciamo andare a messa. Capite che c'è ragione l'assolina? Te la faccio io la messa, da casa. Mi metto su Zoom. Il problema sarà farlo funzionare, Zoom. Ma io lo chiedo a Becciu. Ari, eccomi! Arrivattene! Ari, ok! Ecco. Comunque non vi preoccupate della messa. Preoccupatevi piuttosto del mess. Ma perché non lo prendete sto mess e prendete il mess? Rinunciate alla mess e prendete il mess. Solo che il mess non lo vogliono prendere, se no l'Europa li controlla come spendono i soldi. E lo credo, ma è il minimo. Se no la gente si è imberta ai soldi, come è successo qui in Vaticano. Credete, io ne so qualcosa. Oh, altrimenti vi tocca la patrimoniale. Eh, sacrosanto! Eh, tu prendi il 15, il 20, il 30% su tutte le richesse dei conti correnti. Ma non solo, sugli immobili. Anzi, soprattutto sugli immobili. E infatti chi possiede tanti immobili deve pagare, perché non è intoccabile l'immobile privato. Non è intoccabile la proprietà privata. Ricordatevelo, la proprietà privata non è intoccabile. Cos'è questa musica? C'è una mano. La mano di Dios. Ciao Diego. No, il Vaticano possiede il 20% degli immobili in Italia. No, è la mano dei or, che mi ricorda che è intoccabile invece la proprietà privata. Grazie a mano di Dios. De Dios, dei or, scusami. E noi ci vediamo su Zoom. Buon Natale. Ciao.